Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di Santa Maria Goretti, la martire della purezza. Santa Maria Goretti nacque il 16 di ottobre del 1890 a Corinaldo, in provincia di Ancona. Il 16 giugno 1901, Marietta, con una gioia indescrivibile, si accostò per la prima volta alla Santa Comunione. Fu quella la sua prima e ultima comunione. Poco tempo dopo si abbatté su di lei una prova durissima. Un giovane immerso nel vizio, Alessandro Serenelli, voleva a tutti i costi peccare con lei, ma lei si oppose sempre energicamente, volendo a tutti i costi rimanere fedele ai comandamenti di Dio e mantenere la sua purezza. Alessandro Serenelli ebbe quindi una reazione violenta e uccise a colpi di coltello la giovane martire della purezza. Quando giunse o rivicini, attirati dalle grida della giovane, fu troppo tardi. Quale fu lo strazio di mamma assunta nel vedere la sua marietta così ridotta? Vane furono le cure dei medici, ormai le rimanevano poche ore di vita. Nelle lunghe venti ore di agonia non uscì un solo lamento dalle sue labbra, ma solo parole di perdono per il suo uccisore. Poco prima di morire disse così Sì, lo perdono, lo perdono di cuore e spero che anche Dio lo perdoni, perché lo voglio con me in paradiso. Alessandro Serenelli fu condannato, perché ancora minorenne, a trent'anni di reclusione. Durante la sua prigionia ebbe probabilmente un'apparizione della giovane martire da lui uccisa e si convertì sinceramente. Dopo ventisette anni fu rilasciato per buona condotta e la prima cosa che volle fare fu quella di andare a chiedere perdono alla mamma di Santa Maria Goretti. Non fu un passo semplice da fare. Chiese perdono e mamma assunta disse Lo ha perdonato la mia marietta, lo perdono anch'io. E fu come togliere un macigno dal cuore. Alessandro Serenelli passò il resto della sua vita tra preghiera e penitenza presso i cappuccini di Ascoli Piceno, prima, e in seguito di Macerata, sino alla sua morte. Perdonato da Marietta, perdonato da mamma assunta e perdonato da Dio, sentì il desiderio di espiare i molti peccati da lui commessi. Così scriveva come testamento spirituale Sono vecchio di quasi 80 anni, prossimo a chiudere la mia giornata. Dando uno sguardo al passato, riconosco che nella mia giovinezza infilai una strada falsa, la via del male, che mi condusse alla rovina. Vedevo attraverso la stampa gli spettacoli e cattivi esempi che la maggior parte dei giovani seguiva quella via senza darsi pensiero e io pure non me ne preoccupai. Persone credenti e praticanti le avevo vicine a me ma non ci badavo, accecato da una forza bruta che mi spingeva per una strada cattiva. Consumai a vent'anni il delitto passionale del quale oggi inorridisco al solo ricordo. Maria Goretti, ora santa, fu l'angelo buono che la provvidenza aveva messo davanti ai miei passi. Ho impresse ancora nel cuore le sue parole di rimprovero e di perdono. Pregò per me, intercedette per me, suo uccisore. Seguirono trent'anni di prigione Se non fossi stato minorenne, sarei stato condannato a vita Accettai la sentenza meritata Rassegnato e spiai la colpa Maria fu veramente la mia luce, la mia protettrice Col suo aiuto mi diportai bene e cercai di vivere onestamente Quando la società mi riaccettò tra i suoi membri I figli di San Francesco, i minori cappuccini delle Marche Con carità serafica mi hanno accolto fra loro Non come servo, ma come fratello Con loro convivo dal 1936 E ora aspetto sereno il momento di essere ammesso Alla visione di Dio, di riabbracciare i miei cari Di essere vicino al mio angelo protettore E alla sua cara mamma assunta Coloro che leggeranno questa mia lettera Vogliano trarre il felice insegnamento Di fuggire il male, di seguire il bene Sempre, fin da fanciulli Pensino che la religione con i suoi precetti Non è una cosa di cui si può fare a meno Ma il vero conforto L'unica via sicura In tutte le circostanze Anche le più dolorose della vita Da Santa Maria Goretti Impariamo l'amore alla virtù della purezza Una virtù che non è più di moda Ma una virtù necessaria Se veramente vogliamo andare in Paradiso Gesù dice nel Santo Vangelo Beati i puri di cuore Perché vedranno Dio La purezza, in un certo senso, è un lento e continuo martirio Che richiede umiltà, vigilanza e mortificazione quotidiana Preghiamo Santa Maria Goretti Che voglia ottenerci da Dio questa virtù radiosa Che rende la nostra anima puro riflesso di Dio Come un piccolo lago di acque cristalline Riverbera lo splendore del cielo Così l'anima pura e candida Riflette la bellezza di Dio Impariamo inoltre da Santa Maria Goretti La forza del perdono Se Alessandro Serenelli Interprese una vita di santità È perché si sentì perdonato dalla Santa Fu certamente un perdono eroico Ma Dio a volte ci chiama A certi eroismi Infine, da Alessandro Serenelli Impariamo la necessità dell'espiazione Un conto è essere perdonati Altro conto è la riparazione Se si è veramente pentiti Si sente la necessità di espiare Tutti i nostri peccati E ora, cari fratelli e sorelle Terminiamo con una preghiera Rivolta a Santa Maria Goretti O piccola Santa Maria Goretti Che sacrificasti la vita Per conservare il libata La tua verginità E che morente Perdonasti al tuo uccisore Promettendo di pregare Per lui dal cielo Aiutaci a superare noi stessi Nel difficile cammino Di questo mondo Così profondamente sconvolto Dalle più violente passioni Ottienici la grazia della purezza E ottienici la grazia Che in questo momento Ci sta molto a cuore Amen Santa Maria Goretti Prega per noi Prega per noi